buongiorno e bentornati in questo nuovo video di affinity dog intanto vi invito a vedere il nostro nuovo sfondo che abbiamo appositamente creato per rendere più piacevoli i nostri video il video di oggi è per informarvi che andremo ad introdurre all'interno del nostro canale youtube e dei nostri canali social una rubrica sulle razze si avete capito bene io marzio sala presidente di affinity dog comincerò a parlare di razze perché vogliamo incentivare le adozioni consapevoli in prima istanza parleremo delle razze più comuni per esempio l'avrado il pastore tedesco ma comunque parleremo anche dei meticci però vi chiedo di farci sapere nei commenti qui sotto se avete delle preferenze su delle razze che volete conoscere oppure degli argomenti che volete che noi approfondiamo in merito al comportamento delle razze come vi dicevo all'inizio del video questa rubrica non ha assolutamente la volontà di andare a toccare il lato morfologico e della bellezza del cane ma quello che noi vogliamo esaltare è proprio il lato caratteriale e comportamentale del cane la rubrica che andremo a proporre avrà una cadenza o settimanale ad ogni due settimane adesso vedremo a seconda della rispondenza ai video e perché ci vuole anche tempo per girarli e per farli e poi vi faremo sapere all'interno dei nostri canali social il giorno in cui pubblicheremo i video relativi alle razze che ci avete chiesto di approfondire come vi dicevo all'inizio del video tratteremo ben poco l'aspetto morfologico ed estetico dei cani ma andremo ad approfondire di più l'aspetto caratteriale e comportamentale del cane infatti parleremo di carattere e di doti caratteriali ma soprattutto parleremo anche di motivazioni e di vocazioni marzio ma cosa sono tutte queste cose di cui stai parlando allora intanto sono argomenti che dovrebbero essere di uso comune ma in realtà lo sono ben poco le doti caratteriali sono le componenti che vanno a formare il carattere del cane le motivazioni sono gli obiettivi che un cane vuole raggiungere e ciò che mette in campo e la vocazione e le attitudini sono proprio i talenti cioè cosa un cane è nato per fare e che cosa ha disposizione per raggiungere quel tipo di obiettivo e credetemi che è fondamentale conoscere questi aspetti del nostro cane o del cane che andremo ad adottare perché ciò aiuterà a migliorare la relazione e soprattutto aiuterà i nuovi proprietari a compiere un'adozione consapevole e a scegliere la razza non perché è bella ma perché fondamentalmente si adatta alle proprie caratteristiche ed abitudini di vita spero che questo video ti possa essere stato utile e facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al nostro canale youtube mettendo un mi piace alla campanella sotto e segui le nostre attività e i nostri corsi sul nostro sito www.affinitydog.it seguici anche sulla nostra pagina facebook affinitydog.educazionecinofila e sul nostro profilo instagram affinitydog.educazionecinofila settimana prossima parleremo del pastore tedesco colui che è considerato il cane da molti ci vediamo al prossimo video